La polizia di stato di Barletta nei giorni scorsi ha tratto in arresto Saverio Terlizzi, 35enne e pregiudicato barlettano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo mentre si aggirava con fare sospetto in piazza a Principe Umberto e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 9 dosi di marijuana del peso di oltre 15 grammi, 3 cipolline di cocaina, del peso complessivo di 90 grammi e la somma di 17 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio. Il 35enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Trani. Sempre a Barletta i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 30 anni pregiudicato, immortalato dalle telecamere di sorveglianza del centro storico mentre rubava una bici elettrica all'interno di un garage. L'attività d'indagine ha consentito di individuare anche l'acquirente della bici, un cittadino rumeno di 53 anni che è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata restituita a legittimo proprietario.